durante gli scavi in una zona del sussex un gruppo di archeologi alla ricerca di manufatti sassoni mette alla luce un reperto raccrapricciante si tratta del cadavere di un uomo avvolto in un sudario seppellito in un periodo relativamente recente chi è e come mai è stato sepolto proprio in quel luogo l'ispettore rub incaricata le indagini a solo un pievole indizio la croce ormai con rosa che cadaver ancora si porta al collo per il resto sa soltanto di trovarsi di fronte al caso forse più difficile di tutta la sua carriera